Buongiorno, è il 28 agosto 2021, sabato mattina, è un'altra settimana è passata e siamo qui a leggere Le Aquile si radunano insieme. Prima di farlo vorrei avere una parola di preghiera. Molti di voi che mi guardano nemmeno conoscono il Signore Gesù Cristo come personale salvatore. Potresti essere religiosa o potresti essere una chiesa, un membro di chiesa, va bene, ma Gesù Cristo vuole che tu ne faccia e tu faccia parte di Lui in questo giorno che vivi e per essere quella parte rendersi a Lui e lascia che lo Spirito Santo ti guidi per la Sua parola e per mezzo di un profeta, maggiore di qualunque profeta mai rivendicato dai tempi di Enoch. Così prego che Dio farà qualcosa per te come individuo oggi. Quindi io prego che Dio faccia qualcosa per te come individuo oggi, ascoltando questo video e che cambi la vita, la tua vita e ora andiamo a una parola di preghiera. Chinate i capi e le vostre teste. Padre, ora, benedici questa lettera questa mattina mentre la leggo e possa ogni cuore qui essere circonciso. Circoncidano le orecchie per udire la parola di Dio e circoncidere le labbra per dire ciò che è giusto e possano le grandi potenze essere portate davanti e domani pomeriggio mentre ascoltiamo il sermone del fratello Branham che siamo così in anticipazione affinché porti liberazione per le persone e possa chiunque ascoltare umilmente, semplicemente, nelle loro case alcuni per la prima volta. Vieni con quella sola, possano venire con quella sola mente e questo è il momento che saranno liberate dalle cure della vita, dalle concupiscenze della carne dall'orgoglio della vita in crudulità e anche gli altri che siano liberati così che possa il Signore non tacere ma in una città camminare per le strade e testimoniarlo e dando l'ode e gloria a Dio e possano iniziare anche che possono iniziare a lavorare per te Padre affinché non ci sarà poi così un grande risveglio all'esterno delle terre dove va questo video potrebbe sapere che lo Spirito di Dio ha anche preeminenza ovunque possa tu inviarlo nei luoghi più bui e tirarli fuori quelli che piangono e dar loro salvezza e liberazione queste cose chiedo nel nome che sopra tutti gli altri nomi il Signore Gesù Cristo Amen L'ode al Signore se ti stai chiedendo perché siamo così felici e così contenti di questi tempi di guerre e voci di guerre piaghe, terremoti e maremoti riscaldamento globale scarsità di cibo inondazioni, locuste in tutti i tempi e tutti i tipi di politiche sconvolgenti dove non sai chi è giusto e chi è torto sai perché siamo felici? perché abbiamo una guida e un assoluto e ringraziamo il Signore che ci ha promesso Malachia 4 all'ultimo capito dell'Antico Testamento e negli ultimi versi che avrebbe mandato Elia il profeta e poi quando manda un profeta per catturare la nostra attenzione si identifica con quel profeta ed è più identificato con quella colonna di fuoco proprio come con Mosè con Saul sulla strada di Damasco ogni volta che quel Dio veniva in quella colonna di luce parlava di avere una voce e Dio ha una voce e oggi ha usato William Marion Branham è così eccitante perché stiamo vivendo in un tempo biblico ora di nuovo vedendo manifestarsi la parola di Dio davanti ai nostri occhi attraverso questo messaggero attraverso fratello Branham e attraverso suo figlio fratello Joseph Branham stiamo vedendo queste cose meravigliose di cui è parlato ora in atto come facciamo a saperlo? è perché noi abbiamo udito i nastri quello era il cibo immagazzinato per i nostri giorni ora entriamo nella lettera che Dio vi benedica mi piacerebbe vivere proprio abbastanza a lungo e vedere il mio piccolo Joseph seduto lì e diventare un ministro prendi lo spirito che avrò e lasciarlo e prendi lo spirito che io ho e che scenda su di lui e questo è fratello Joseph Branham del tabernacolo Branham che dice inizia così caro tabernacolo Branham siamo così grati che egli ci ha predestinati a scegliere la giusta chiesa in cui mettere le nostre famiglie se io scegliesse una chiesa sceglierei una chiesa genuina fondamentale del pieno vangelo biblica se ne stessi scegliendo una in cui mettere la mia famiglia e fratello e fratello Joseph si continua siamo così grati di dire al mondo chi è il nostro pastore e che noi agiamo proprio come lui e fratello Branham dice se osservate il comportamento di quella chiesa osservate un po' il pastore solitamente troverete che la chiesa agisce come il pastore siamo così grati che non importa dove ci troviamo nel mondo egli si incontra con noi e continua e lui ha promesso di incontrarsi dovunque due o tre siano riuniti insieme veramente ecco dove il vero credente poggia la sua speranza e su quella parola di Dio che è rivendicata nella verità fatelo già se continua siamo così grati di credere al suo profeta e ogni parola parlata e fratello Branham dice se credete che io sia il profeta di Dio ascoltate quel che v'ho detto fratello Branham dice Joseph dice cosa doveva predicare il suo profeta e fratello Branham dice un messaggio perfetto indietro alla parola e fratello Joseph dice perché cosa è stato inviato e fratello Branham dice vai a prendere quella sposa questo è un dovere ecco perché sono qui questo è ciò che cerco di fare e chiamare fuori una sposa e se perdiamo il passo e fratello Branham dice questo è ciò che ho tenuto a fare tenere quella sposa al passo ora cosa ha in serbo adesso il padre per la sua sposa tornerò a casa rinnoverò di nuovo i miei voti comincerò da capo così ecco cosa stiamo progettando di fare ecco ciò per cui sono qui fratello Joseph continua loda al Signore quando inizieremo i nostri servizi per il rinnovamento e fratello Branham dice e poi se il Signore vuole la prossima domenica mattina inizieremo il servizio e voi tutti aiutatemi e pregheremo perché era nel mio cuore di cercare essi hanno detto beh potremmo andare a Louisville o potremmo andare a New Albany ma la riunione doveva essere a Jeffersonville andrò a Louisville e New Albany diverse volte ma questa deve essere qui a Jeffersonville padre siamo pronti le tue acque si riuniranno e ascolteranno cosa avverrà durante questo periodo ho bisogno di più fede quello per cui sono a casa ora per ottenere una nuova fiammata di fede loda al Signore fatelo già se continua loda al Signore ecco cosa vogliamo anche noi padre una nuova fiammata di fede sappiamo che la fede viene dall'udire udire la tua parola la tua parola viene dal profeta questo messaggio la potenza di Dio onnipotente si è diffuso in tutto il mondo ma ora sta arrivando il tempo della separazione Dio sta chiamando una sposa e il diavolo sta chiamando una chiesa noi siamo parte di questo messaggio la sua parola la sua sposa abbiamo la certezza e sappiamo di cosa stiamo parlando non ci vergogniamo di credere a questo messaggio e al suo messaggero perché sono la stessa cosa non ci vergogniamo di dire crediamo ogni parola non ci vergogniamo di dire nella nostra chiesa ascoltiamo i nastri non ci vergogniamo di dire siamo gente dei nastri ci viene difficile comprendere un credente o un ministro dei cinque ministeri che affermina di credere a questo messaggio e dica che il fratello Brana è il profeta è il messaggero di Dio e poi creda e dica alle persone che è sbagliato e non secondo la parola ascoltare nella propria chiesa la stessa voce di Dio rivendicato Fatelo Brana dice facciamo istanza a tempo e fuori di tempo riprendi sgrida e con ogni pazienza e dottrina per ciò che verrà il tempo che essi non comporteranno la sana dottrina ma pizzicando loro le orecchie accumuleranno insieme dottori per i loro propri appetiti e saranno rivolti dalla verità alle favole fratello ma per noi è una realtà non ci vergogniamo quando abbiamo ricevuto quella rivelazione qualcosa si è stabilito dentro di noi e ora non c'è niente che possa prendere il suo posto siamo orgogliosi di essere definiti uno di loro una chiesa dei nastri un gruppo dei nastri gente dei nastri vi invitiamo a venire ad ascoltare con il tabernacolo brana il ministero dei nastri di dio domenica alle 14 orario di jefferson mentre ci uniremo con grande anticipazione rinnovando ancora i nostri voti e iniziando di nuovo ascoltando vergognarsi 65 07 11 fratello joseph brano ora la scrittura da leggere per oggi convocata dalla folla insieme ai suoi discepoli disse loro se qualcuno vuol venire dietro di me rineghi se stesso prenda la sua voce e mi segua perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà ma chi perderà la propria vita per causa mia e del vangelo la salverà che gioia infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la propria anima e che cosa potrebbe mai dare un uomo in cambio della propria anima chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultra e peccatrice anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del padre suo con gli angeli santi fino alla prossima volta Dio vi benedica Shalom Dio vi benedica Grazie.